Il 16 novembre comincia un corso presso la Libera Università del Sapere Critico sulla violenza contro le donne, strumenti teorici e di prevenzione. Lotteremo io e Angela Romanin della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Partiremo tutti i giovedì dalle 19 alle 20 e 30 e ci troviamo quindi a Parma a parlare di violenza contro le donne per capire qual è stato il percorso delle donne del Novecento, le loro lotte, le loro battaglie e anche come hanno lottato contro la violenza. Affronteremo nello specifico alcune tematiche particolari, in particolare i movimenti delle donne, i centri antiviolenza, gli strumenti di prevenzione che si possono utilizzare nei contesti educativi e faremo dei focus tematici su argomenti poco conosciuti come la violenza psicologica. Ma senza dimenticare un passo anche e un approfondimento tematico sull'immaginario della cultura di massa a partire dalla cinematografia fino ad arrivare alla pubblicità per analizzare nel profondo gli stereotipi di genere che perdurano nella nostra società e che continuano a alimentare le disuguaglianze e a nutrire il sostrato della violenza di genere.